Ciao, sono Marcello Parodi, sono qua per presentarvi un omaggio alle Zeppelin Celebration Day che faremo il 10 settembre alle 16 al FIM di Erba, presso il Main Stage. I miei collaboratori saranno Fabrizio Mangioglio alla Voce di Milano, Armando Bertozzi alla Batteria di Roma, già batterista di Jacopo Pastorius, Francesco Beglia, bassista di Albenga, già bassista dei New Trolls e Paolo Morscio, anche lui tastierista, parte della tastiera. Ciao a tutti!